Buongiorno a tutti, sono le 9.08, facciamo l'appello, i consiglieri alle Ori, Bellassai, Borrelli, Cerisole e Vaccari erano già presenti dalle 9, poi chi ha bisogno dell'attestazione e me lo comunica. Eccomi presente dalle 9 con attestazione Caterina, grazie. Benissimo, grazie a voi, siamo pronti. Bene, abbiamo il verbale 44 che si riferisce al 30 novembre, i punti dell'ordine del giorno e l'approvazione del verbale numero 37, le politiche giovanili, incontro con i rappresentanti ineletti della consulta del municipio 9, vari eventuali esame posta. I presenti eravamo Patrizia De Vivo, Aleori, Angelini, Bellassai, Borrelli, Cerisola, Vaccari, tutti quanti, erano inoltre presenti il presidente della consulta dei giovani e delle giovani, Biancone, vicepresidente Rizzibastiani e l'assessore Tranquilli, il segretario verbalizzante Emanuela Mondo. Ma mi chiedo, dobbiamo mettere i nomi e i cognomi sui verbali? Allora, in realtà no, quindi io li toglierei. Eh, infatti non li abbiamo mai messi. No, infatti, quindi tolgo sia… Sì, quindi scriviamo semplicemente il presidente e il vicepresidente della consulta. dei giovani e delle giovani, vicepresidente della consulta dei giovani e delle giovani, Assessora alle politiche giovani, lì, municipio 9 euro, mettiamo in genere noi. Perfetto. Roma, 9, nonostante solo, euro. Ecco, ho corretto. Va bene, io salto il primo pezzo perché ce ne sono i verbali, si dispone all'approvazione del verbale con le integrazioni apportate in lettura, va bene. Va bene. La presidenta della 924 dispone una sospensione e la 931 riprende. La presidenta affronta, secondo punto, all'ordine del giorno, politiche giovanili. Incontro con i rappresentanti in eletti della consulta del municipio 9, saluto i rappresentanti in eletti della consulta dei giovani e delle giovani, introduce alla Commissione 1, nella sua composizione, ambiti di competenza e procede ad introdurre l'argomento, fornendo un quadro sull'iter istitutivo delle consulte del municipio. Domanda al presidente e al vicepresidente dei letti una panoramica dei prossimi adempimenti. Presidente, il presidente qua... Sì, sì, togliamo anche qui. Presidente della consulta... Spiega che dopo una prima convocazione dell'Assemblea, nel corso del quale verrà nominato il comitato operativo, si avvieranno i lavori ufficiali della consulta del primo dicembre, per implementare il lavoro da inizio gennaio 2024. Il presidente di Viva evidenzia la complessità della composizione del comitato operativo, di cui è l'articolo 10 del regolamento della consulta. Eh sì, mi ricordo che era abbastanza complesso. Dovremmo correggerlo questo regolamento. Assessora Tranquilli osserva che il punto è stato oggetto di confronto, in particolare per le implicazioni pratiche della disciplina regolamentare del testo. Sarà opportuno intervenire in sinergia con la consulta stessa, in caso di futuro ulteriore adesione, per rendere il funzionamento del comitato più snello. La consigliera Vaccari, rispetto agli adempimenti posti dalla consulta, accoglie l'invito ad aprire la adesione... Scusate, qui c'è scritto emendamenti, non so se è corretto. Ma dove c'è scritto emendamenti? Leggo la consigliera Vaccari, rispetto agli emendamenti posti dalla consulta... Ah sì, sì, quello che stavo... No, non so se sia corretto. Eh sì, noi lo chiediamo a Paola Vaccari. Allora, lo leggo tutto e poi magari Paola interviene. La consigliera Vaccari, rispetto agli emendamenti posti dalla consulta, accoglie l'invito ad aprire l'adesione all'Assemblea per aumentare la partecipazione. Guarda con favore all'interpretazione fornita dalla consulta, rispetto al regolamento istitutivo. Esprime l'intenzione di un lavoro congiunto in audizioni su temi di interesse comune. effettivamente non c'erano regolamenti. Forse agli aggiornamenti, forse... Non lo so, infatti volevo chiedere proprio alla consigliera Vaccari... Eh, sto cercando di dire... Per la consigliera Vaccari, d'accordo... Agli elementi, agli elementi, cioè nel senso ai temi posti dalla consulta? Sì, perché... Esatto. Evendamenti non c'entra niente. Eh, infatti mi sembrava un po'... Quindi metto simile come parola, se non lo so... Sì, ai temi, esatto. Sì, sì, sono d'accordo. Bene, rispetto ai temi. Sì, sì. Ok, allora metto rispetto ai temi, va bene. Sì, sì, va benissimo, grazie. Prego. Grazie Danilo. Il vicepresidente... Il vicepresidente, bisogna togliere Brizzi. Sì, sì, certo, rimetto della consulta dei giovani e delle giovani. Metto solo consulta, perché a questo punto tanto abbiamo capito... Ho capito via dei giovani e delle giovani. Sì. Va bene. Individuo alcuni ambiti tematici su cui ritieni ci siano margini per lavorare insieme. Bullismo e cyberbullismo. Un tema sentito è che si intreccia anche su quello della legalità. L'abbiamo messo, se non sbaglio, a piano nei prossimi mesi. Sì, sì. Sensibilizzazione sulla sicurezza stradale. Sì. Favorire la partecipazione attiva dei giovani al mondo delle istituzioni e far conoscere anche l'opportunità data alla municipio in questo senso. Comunica di un prossimo incontro al liceo Aristotele sulla dispersione scolastica, in occasione del quale verrà presentata la consulta, con l'obiettivo di creare una rete di diverse realtà attive sul territorio, tra i rappresentanti di istituto di liceo, soggetti dell'associazionismo, del mondo dello scautismo e dell'intercultura per favorire l'integrazione delle periferie. Tante sono le proposte all'attivo e messe anche tramite consultazioni effettuate, che ha auspica di poter tradurre sul piano organizzativo in altre tante iniziative. La consigliera De Vivo apprezza... La presidente. Ah sì, la presidente De Vivo apprezza il valore della rete. Chiede di essere informata rispetto all'esito dell'incontro. Seguono saluti e interventi alternativamente da parte di tutti i commissari. La consigliera Vaccare, in qualità di presidente della Commissione Parli Opportunità, considerata la recente presa di coscienza di tanti cittadini sul femminicidio, domanda se c'è intenzione di affrontare temi quali il rispetto, l'affettività per una maggiore consapevolezza e si mette a disposizione compatibilmente con gli argomenti da trattare. Il consigliere alle ore incoglie favorevolmente l'istituzione della consulta, apprezza le tematiche di estrema attualità che sono state illustrate. Aggiunge apprezzamento per l'obiettivo della sensibilizzazione del giovane alla politica, sollecitando le istituzioni in modo propositivo. Auguro un buon lavoro alla consulta che auspica possa rappresentare una cartina di torna sole tra i giovani e i municipi, per una coesione di intenti e l'impegno a lavorare insieme in modo proficuo. Il consigliere Bellassai auspica che gli incontri con la consulta siano frequenti, tenuto conto degli ambiti tematici in comune con la commissione. Ritiene importante avere un municipio, frammentato, quale il nono, in zone differenziate, avere uno sguardo che venga dai giovani sulle realtà giovanili, esprime preoccupazione per il quadro sociale intriso di fenomeni di bullismo e incidentalità stradale, su cui si spendono molte parole senza provvedimenti e per il disagio giovanile, difficile da codificare da parte degli adulti. Chiede alla consulta un supporto in termini di stimoli e spunti di originalità, dell'immaginare un futuro e nel capire le reali esigenze per affrontare nel concreto i problemi, rispetto ai quali conferma l'onestà intellettuale da parte della commissione 1, a fronte di paternalismi a volte dettati da una differente ottica generazionale. Ci vuole un accento su onestà, l'onestà intellettuale. Il consigliere Ceresola esprime le proprie aspettative per il contributo che verrà dalla consulta. Illustra a favore dei rappresentanti ospiti la struttura istituzionale, i riferimenti amministrativi della commissione, le modalità di funzionamento delle sedute e le modalità di contatto con i commissari. Ed è nella consulta uno strumento per essere ascoltati insieme ad altri organismi, tra i quali la consulta provinciale degli studenti, di cui fornisce puntuali riferimenti normativi sui possibili temi di confronto, evidenzia la questione del cambiamento climatico e degli impatti sulla salute e l'ambiente. L'assessore Tranquilli coglie il punto evidenziato dal consigliere Bellastai, esorte i commissari ad evitare la visione paternalistica, ponendosi in un dialogo tra pari, in un'ottica di ascolto, in un ragionamento univoco comune con i ragazzi, che non sono cittadini di domani, ma cittadini già oggi, rappresentati istituzionalmente anche all'interno del Consiglio Municipale attraverso i consiglieri membri di giovane età. Invita ad evitare di collegarsi sui piani di superiorità, che ritengono in dubbio il giovamento. Si rivolge infine al Presidente e al Vicepresidente, noi eletti affinché la consulta sia un luogo corale per un lavoro corale, non solo in termini di presenza, ma anche di azione politica, precisa e il contesto operativo delle consulte, che non vanno intese come luogo parallelo al Consiglio del Municipio, ma come satelliti attorno a cui ruota l'azione dello stesso, attraverso un confronto con le commissioni. Conclude con la proposta di affrontare il tema inerente all'assenza di luoghi e spazi pubblici privati di incontro, criticità ancora più evidente negli arei più lontani del Municipio. Il Consigliere Angelini concorda con l'assessore nel ritenere un critico un approccio alle consulte di stampo generazionale, perché presta in fianco al rischio di procrastinare al domani ciò che invece va fatto nel presente. Apprezza e sottolinea lo spunto di favorire un incremento della partecipazione come risultato di una buona attività politica. Occorre far conoscere la consulta alla propria platea di riferimento. Il Consigliere Borrelli ritiene che la consulta sia uno strumento che un pezzo di generazione debba fare proprio e agire come vuole nel rispetto di un confronto istituzionale. Sui obiettivi evidenza la necessità di individuare le modalità di supporto o istituti di protagonismo civile in termini di servizi, spazi, infrastrutture che permettano di esprimere punti di vista, contributi, scambi dialettici e proprie stanze con i municipi. Auspita stimoli proattivi di miglioramento anche nella comunicazione per la città di domani, di tutte e tutti, sottolineando la priorità dell'ascolto per un dialogo proficuo. La Presidente De Vivo tira le fila di quanto è emerso attraverso la considerazione concursiva sia sulle attività svolte nei confronti dei giovani, sia sulla necessità di stimolare contributi in termini di riflessioni, idee e azioni multilivello, dal comune ma anche dalla regione e dalle università per una città del domani. Cita, quale città che servirebbe? La parola è giovane. Un documentario con un intervento dell'intellettuale Andrea Cabelleri. Il Presidente Biancone si deve togliere. Grazie alla consulta, sottolinea, rivolgendosi all'intervento della consigliera Bancari, la fondamentale necessità di parlare di educazione affettiva, di violenza di genere, un problema che ritiene impensabile risolvere senza i cittadini di oggi, tutti con una più forte prospettiva del domani. La parola chiave è... Forse qua è più che... Scusami Patrizia, forse qui è indispensabile. Eh sì, sì. Sì, sì, certo, certo. Indispensa... giusto. Indispensabile. Eccoci, perfetto. Però anche impensabile andava bene. No, 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 dispensabile, no, per carità, è meglio. Direbbe impensabile, non era sbagliato nel leggere la frase, dicevo. Allora, la parola chiave è partecipazione, l'intento è ampliare la partecipazione assembleare, incrementare le politiche a favore dei giovani ed essere orecchio dell'amministrazione comunale e un microfono per i giovani fuori da essa. Bisogna lavorare per comprendere la realtà che ci circonda non sempre chiara, allargando gli orizzonti per dare una prospettiva più ampia. Il vicepresidente esprime convergenza sulle tematiche poste dalla consigliera Raccari occorre proseguire nello slancio dell'ampia partecipazione del pubblico giovanile per portare avanti il tema importante dei diritti delle donne e del contrasto alla violenza e alla tratta degli esteri umani. Aggiunge sull'esperienza del mondo dell'associazionismo il tema dell'alleanza intergenerazionale per plasmare il futuro in un dialogo continuo tra vecchie e nuove generazioni e nuove generazioni che viene giusto imparare dall'esperienza di ciò che è stato ricevuto. Dalle esperienze di ciò che è stato ricevuto. Sul tema dell'assenza di spazi si rileva come questo quotidianamente si colleghi al fenomeno delle baby gang e della dispersione scolastica. Il disagio e le piazze a dispaccio nascono dalla mancanza di luoghi di aggregazione. Le baby gang sono fatte da bambini cresciuti in questo contesto. La commissione e la consulta insieme devono lavorare per affrontare lo stigma delle portavertà educative. La Presidente dei Vivo ringrazia il congiore dagli ospiti per le varie eventuali e la Presidente informa di aver visionato i video di Ares 118 su cui si ritiene si debba ragionare propone il rinvio del tema a gennaio previa verifica della disponibilità a partecipare degli ospiti in audizione. Informa sulla programmazione dei lavori e sulle prossime sedute. Seduta sull'approvazione del bilancio e poi su segnalazione di Bellassai un punto all'ordine del giorno dedicato ai miei. Del consigliere Bellassai. Segnalazione del consigliere Bellassai. Non essendoci posta la Presidente conclusi gli argomenti. Grazie. Prego. Dichiaro chiusa la seduta mi sembra che possiamo per me va bene anzi è fatto benissimo veramente. Sì sì per me va bene. Anche per me va bene. Quindi il letto ha approvato una sembra io anche per me anche per me Caterina volevo dire un'altra cosa che c'è ancora c'è ancora il file by da approvare quello del 23 novembre che abbiamo approvato bisognerebbe tolto L'avevo tolto? C'è ancora? Io quando sono andata a vedere stamattina forse sì stamattina infatti poi ditemi se c'è ancora perché io poi l'ho tolto No 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 vabbè diciamo che fino alle 9 meno 5 c'era adesso ricontrollo anch'io perché in realtà l'avevo tolto però vedo se magari c'è stato un problema che me l'ha conservato Io prima vedevo solo questo Ah va bene vedevo solo questo Perfetto perfetto va bene è stato tolto Perfetto c'è la manastra del Consorangelini Perché è entrato probabilmente In seduta Sì Presidente volevo avvertire che ero entrato però sono entrato verso le 9 e 10 era non ho Va bene grazie lo inserisco subito Grazie Buongiorno scusate il ritardo E' stato importante leggere questo verbale perché effettivamente è stata una bella riunione quella con i giovani ora speriamo di farla più presto possibile dunque sono le 9 e 26 alle 9 e 30 arrivano la Presidente della Consulta della Disabilità spero che arrivi l'Assessora Laurelli e io anticiperei un attimo il tema vari eventuali se ci sono così utilizziamo questi pochi minuti per in attesa dell'arrivo degli ospiti io vi volevo soltanto anticipare che la prossima settimana rispetto al piano che abbiamo discusso giovedì passato facciamo una riunione sulle barriere architettoniche invitando il direttore Sica che ancora non ha rispettato conferma ufficiale ma dopo tante mail che gli ho fatto gliela rifarò l'Assessora Angelucci per fare un attimo il punto come avevamo richiesto sui lavori passati ma anche sui lavori futuri e quindi spero veramente di riuscire a organizzarla fra oggi e domani di ricontattarli e questo è il tema della prossima settimana per quanto riguarda la richiesta sulle strutture dei poveri non ho visto semplicemente che dagli articoli dei giornali e so che c'è quest'ordinanza del sindaco però più di questo non saprei cosa dire che cosa fare so soltanto che sono abbastanza sono tantissimi posti letto 70 posti letto e che la Funari ha detto in altre riunioni che vuole apportare almeno al mille il numero dei posti letto per i senza dimora che sappiamo da statistiche non ancora fatte che lei ha avviato la statistica sull'Istat che faceva parte anche di una delle risoluzioni che abbiamo chiesto noi e non so quando sarà pronta però se vi ricordate le statistiche del 2010-11 portavano una presenza di 7-8 mila senza dimora persone che vivevano per strada a Roma e quindi effettivamente il numero di posti letto va implementato e quindi stiamo andando in una direzione giusta sono a 9.30 se non ci sono altre varie eventuali magari Caterina se puoi anche controllare mentre chiudiamo questo punto se c'è la posta la posta non ce l'abbiamo in realtà bene abbiamo ricevuto una mail tutti quanti no un secondo controllo controllo che era un'attività che dovremmo fare no no mi sto sbagliando non era un'attività di politiche sociali era una presentazione del libro niente come l'hanno detto allora a questo punto io vorrei se riesco se riesco vi volevo inoltrare condividere delle slide ma non riesco a condividerle buongiorno presidente Rosario buongiorno allora io vi manderei delle slide che ho fatto per posta un secondo stiamo attendendo l'assessore buongiorno presidente e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Con la condivisione. Allora, non so se siamo tutti… Posso condividere, Presidente, se vuole. Grazie, grazie. Grazie, Fulvio. Allora, la Presidente… Ah, Rosaria Scher. Vediamo un attimo se l'assessore Laurelli si viene. Si vedono? Sì, si vedono. Io sto un attimo… C'è qualcuno in sala d'attesa, forse l'assessora? Ah, vediamo. Non la vedo. Non la vedo nemmeno io. Non vedo la sala d'attesa. Qualcuno può ammettere… Avevo già ammesso, avevo già ammesso. Ah, ok. Fa tutto Fulvio Bellassai stamattina. Grazie, Fulvio. Chi c'è? No, ci sono due… E' la Presidente De Vitis, che risulta presente con due dispositivi. Ah, infatti… Eliminiamo quello senza videocamera? Piedo alla Presidente De Vitis, se la possiamo. Buongiorno, Rosaria De Vitis, Presidente. Non ci sente, mi pare. Eh, no. Perché forse ha due dispositivi connessi, tipo telefono e computer. Patrizia, ma sai che ti conviene contattarla un attimo al telefono? Non sento. Non sento. Non sento. Infatti, vedi che lo dice, non sente. Non sento. Adesso esco. Presidente, ma se facciamo due minuti di sospensione così… Patrizia? Io non sento, ma adesso magari… Sì, perché… No, io adesso appunto mi stacco dal computer e passo al telefono, è l'unica. È l'unica, infatti. Sì, sì, no, chiudo quella del computer, perché è lì che… Passo sul telefono, che è meglio. Dai, ok, grazie, grazie. Scusatemi, dobbiamo sospendere, mi sono distratta un attimo. Eh, non lo so se la Presidente vuole sospendere. Chiedevamo di sospendere per mettere a posto le cose. Lo sospendo. Scusate, ho detto di sospendere, scusatemi. Scusatemi, sì, non avevo avuto la conferma, quindi se ero rimasta ferma. Va bene, sospendo un attimo. Allora, sono le 9.50. Facciamo questo appello veloce. De Vivo? Sono presente. Alle Ori? Angelini? Presente. Bellassai? Presente. Borrelli? Presente. Cerisola? Presente. Baccari? Non riesco a sentire la... Ecco, cerisola? Sì, sì, cerisola, l'ho sentito. Non riesco... Richiamiamo la consigliera Vaccari? Eccomi, eccomi. Eccola. Richiamiamo il consigliere Alle Ori. Allora non ci risponde. Va bene, proseguiamo. Scusatemi, mudo, perché se no sentite un eco. Perfetto, vedo la mano alzata del consigliere Cerisola. Prego, consigliere. Chiedo scusa, Presidente, solo perché ovviamente questa registrazione viene depositata nell'archivio municipale di YouTube e volevo appunto far presente, visto che i cittadini dovessero andare a vedere la registrazione e questa registrazione magari potrebbero non capire. Abbiamo fatto l'appello perché giustamente la verbalizzante, dopo una sospensione non breve, ha chiesto correttamente, assolutamente, di fare l'appello, ma è la continuazione della seduta che è iniziata alle 9 con un altro punto all'ordine del giorno e quindi stiamo continuando. Quindi questa è la seconda parte. Mi scusi, Presidente, tanto per essere precisi. Allora, perfetto, allora cominciamo. Questa riunione è un po' la prosecuzione di quello che successe una quindicina di giorni fa in commissione con l'invito della Presidente Rosaria De Vitis che ci raccontò che c'erano, ci raccontò alcune problematiche. Una problematica riguardava i centri estivi che so che in qualche modo è stata, è seguita e quindi è già, l'ASL sta già lavorando per risolvere quella questione, l'ASL Roma 2, perché vi erano delle difformità nelle modalità di pagamento e anche nella… Allora, c'è la signora Tessitoria Meriester, io la metto… No, un attimo, io non ho la privacy, quindi non… Eh sì, però abbiamo detto che non deve parlare, no? Ah ok, sì sì, gliel'avete già detto, era lei? Va benissimo, scusatemi. Ci fermiamo un attimo, vi ha comunicato, sì sì, lo so. Va benissimo, allora l'ammetto, va bene, va bene, scusate la discussione. Grazie, se la puoi ammettere, se la puoi ammettere. Allora, innanzitutto mi sono dimenticata di dare il benvenuto ai membri anche della Presidente, al Vice Presidente della Consulta della Disabilità del Municipio 9 e stavo dicendo che questa riunione in qualche modo vuole riprendere un pochino quei temi che sono stati affrontati 15 giorni fa, che per quanto riguarda i centri estivi sono state individuate alcune difformità della nostra ASL rispetto alle altre e quindi si sta facendo un regolamento omogeneo comune e quindi questo problema dovrebbe essere rientrato, si spera sia rientrato. Gli altri temi invece posti dalla Presidente della Consulta per i diritti della disabilità si riferivano ad una delibera della Regione Lazio che riguardava espressamente l'autismo e poi abbiamo anche il discorso del TSMRE dell'ASL Roma 2 che ha carenza di personale. Allora, poiché io volevo inquadrare questa commissione in quest'ottica, cioè guardare un attimo qual è il quadro normativo complessivo che riguarda l'autismo che è una patologia, non si può nemmeno dire patologia, è un disturbo, quindi non è una malattia, ma è perché non si cura con dei medicinali, ad oggi almeno non ci sono pure con i medicinali, ma si cura con altre terapie che sono le terapie ABBA, che sono terapie che riguardano aspetti di logopedia, aspetti di psicomotricità, ma altre forme dove l'aspetto sanitario esiste ma non è preponderante. Forse questo è uno dei motivi della delibera della Regione Lazio. Quindi ho intitolato questo studio Niente su di noi senza di noi, perché il motto del movimento internazionale della disabilità l'ho voluto chiamare così perché effettivamente uno dei problemi, una delle criticità che io intravedo in questa delibera è che sono tutta una serie di libri di giunta e che invece dovrebbero avere un percorso un po' più partecipato del Consiglio regionale. Questo è il mio pensiero personale però. Allora, la legge 833… Patrizia scusa un attimo, dato che hai salutato gli ospiti, però vogliamo salutare pure l'assessore Allaurelli? L'avevo salutata, Paola scusami, sono scostumata, lo ringrazio, va bene, ok. Scusami dopo, forse perché mi sono collegata più tardi, grazie, scusami. Allora, questa legge obbliga, è una legge del 78 che garantisce alle persone con disabilità intellettiva e anche alle persone con autismo che hanno però limitata autonomia le prestazioni sanitarie e sociosanitarie che sono quelle che sappiamo sono le prestazioni addorniciglio, la frequenza di un centro di urno e l'inserimento anche in comunità alloggio di tipo familiare. Possiamo scorrere la slide. Se vedete la legge specifica per l'autismo del 2015, questa la dice tutta questa data, 2015, perché proprio per i problemi che ci sono intorno a questo spettro, a questa patologia. Nel 2015, la legge 134, affermò che l'autismo aveva bisogno ancora di ricerca scientifica, e ne ha bisogno ancora, ma soprattutto di percorsi sanitari, di servizi specifici e di questa equippa territoriale dedicata alla formazione dei servizi specifici di neuropsichiatria infantile. e quindi a quel punto nacquero, insomma, presero piede le UM UD all'interno delle ASL, all'interno anche, insomma, presero piede queste strutture. Poi, ovviamente, le regioni che devono garantire il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria, individuando dei centri di riferimento, e anche qui i centri di riferimento sono stati individuati da una delibera della regione Lazio, che è poi più tardicito, e che sono stati individuati quindi in casa e famiglia, in comunità alloggio, e quindi abbiamo anche questo aspetto stato coperto. E poi, ovviamente, la richiesta di disponibilità sul territorio di strutture residenziali e semi-redidenziali accreditate. Le slide sono pochissime, quindi non vi porterò per i campi, sono soltanto 15, penso che 5-10 minuti ce la faccio. La legge 886, sempre della regione Lazio, dispone proprio che in ogni ASL ci sia almeno un'unità funzionale, che sia fondamentale alla condivisione della diagnosi con la famiglia, e questo avviene, è che ci siano queste equip multidisciplinari, formate per i disturbi dello spettro autistico, da queste equip che non solo fanno la presa in carico, ma predispongono e pianificano il progetto d'erapeutico, e poi il progetto d'erapeutico non è necessario che venga preso in carico dalla stessa equip, ma l'equip rinoltra verso centri accreditati per il progetto d'erapeutico. E poi nasce anche il coordinamento regionale della rete interistituzionale di disturbi dello spettro autistico, che poi deve monitorare, questo potrebbe essere un organismo su cui potremmo vedere, potremmo pensare di coinvolgerlo, di invitarlo in commissione. Possiamo andare avanti, grazie Fulvio. Poi la regione, sempre nel 2018, ha fatto delle linee guida, parlando di questa rete di servizi, e nella stessa linea guida della regione, che se volete vi posso inoltrare perché c'è tutto il pacco dell'ipiano, ho raccolto tutta la legislazione, individua già delle criticità che io ritengo che esistino ancora, e cioè che ci sono ancora delle carenze strutturali, organizzative, dei servizi territoriali che portano frequentemente a ritardi nella formulazione della diagnosi, ed i livelli di assistenza terapeutica e abilitativa sono insufficienti in molti casi a specifici. Queste sono frasi, parole prese proprio dal piano della regione, non le ho scritte io, le ho solo riportate. Anche inadeguatezza e ritardi nell'applicazione dei livelli essenziali in età infantile e adolescenziale, e questa è una delle cose che abbiamo toccato con mano in una delle riunioni che abbiamo fatto a luglio in questa commissione, in cui abbiamo invitato il TSMRE, che se vi ricordate si era dovuto al fatto che alcune persone si erano andate in pensione, altre sarebbero andate in pensione a dicembre, un'altra unità. E poi non c'è effettivamente una sufficiente continuità tra l'età evolutiva e l'età adulta. E questo è un altro tema che fu affrontato, perché ovviamente a 18 anni i ragazzi devono passare, diventano adulti e quindi non sono più seguiti dal TSMRE. Grazie, possiamo andare avanti? Questa è un altro punto clou di oggi, perché è la 2044, non lo so qual è la data, devo correggerla, è la 1305 ma non del 2044, che praticamente è proprio fondamentale per oggi analizzarla, perché è quella che stabilisce tutte le prestazioni che devono essere, innanzitutto la tipologia di centri e tutte le prestazioni che devono essere erogate in questi centri. Io ho qua riportato soltanto i centri che riguardano le problematiche psicosociali, ma all'interno di questo documento ce ne sono di più. Quindi abbiamo case famiglia, comunità alloggio, strutture residenziali e semi residenziali per persone con problematiche psicosociali. Possiamo andare avanti? Questa è la delibera che invece è recentissima, di cui abbiamo parlato 15 giorni fa. Questa delibera, scritta un po' male, ho fatto un copio in colla sbagliato, però racconta che nel corso una serie di valutazioni espresse dai gruppi dell'ASL all'interno dei piani che sono stati stilati e che vengono continuamente aggiornati, ovviamente, sono state individuate nelle ASL Roma 1, 2, 3, 87 persone che sono in condizioni tali di gravità che richiedono un regime non compatibile con le strutture socioassistenziali di cui ho questa delibera, ecco, era la 1305, o il 2004. E questo è un altro punto che non è chiaro perché queste persone non sono compatibili con queste strutture socioassistenziali. Possiamo andare avanti? Ecco, queste sono le criticità scritte da me, quindi quelle che ritengo, quindi su questo possiamo aprire un dibattito. Innanzitutto non è chiaro il concetto di continuità assistenziale, perché non indica in che modo e quali strutture possa essere conseguita questa continuità e considerate anche che le strutture sono quelle previste dalla legge di cui abbiamo visto prima. Allora, io ho visto che annualmente la regione fa dei libri di questo genere ed effettivamente sono dei libri che fanno capire che ci sono utilizzati specialmente in alcuni casi, per esempio nel caso in cui c'è un passaggio, il passaggio di età da 17 ai 18 anni, non è corretto tirare fuori il ragazzo da quella struttura perché ha 18 anni e qualche giorno e quindi in qualche modo è necessario che venga capita la continuità dell'assistenza di quella persona. Altre continuità che ho visto nelle delibere precedenti riguardano il fatto che ci sono persone che non passano per l'ASL e quindi non sono conosciute sia al TSMRE sia alla cosa adulta e si dirigono direttamente presso questi centri e a quel punto in quel centro vogliono rimanere e quindi in qualche modo l'ASL prende in carico queste persone e quindi deve rifare tutta una serie di pratiche. Anche quella è continuità. E quindi queste sono quelle delle delibere di giunta precedenti, in questa delibera di giunta non è chiaro il concetto di continuità, cioè cosa ne sarà di queste 87 persone e in che punto, dove e come avverrebbe questa continuità. Poi non è chiaro ancora cosa significa questi stanziamenti, 70-30%, 60-40% che sono assicurati fino a giugno e cosa avviene nella seconda metà dell'anno. Quindi dal primo luglio che cosa succede? La continuità e poi non viene più stanziato nulla? E poi ancora, sempre nella delibera, secondo me è necessario capire cosa si intende per alcuni casi specifici che presentano questo bisogno sanitario e sociosanitario e che non sono previste all'interno dei centri stabiliti nella regione Lazio. Questo è un altro punto, forse il punto fondamentale, perché fa pandanno con quello che dicevamo prima. L'autismo non è una patologia, è un disturbo e quindi è probabile che la regione si stia chiedendo che probabilmente la sanità in quest'ottica non è prevalente, è prevalente la parte sociale. Questo è quello che si intravede dalla delibera. Poi, questo è un appunto che ho scritto io, fa parte sempre della legge che abbiamo visto prima la 1305-2004, le persone ospitate in quella struttura sono quelle previste dalla legge quadro del 5 febbraio che è scritto così nell'intestazione della delibera. Quindi queste persone fanno parte di questa categoria e quindi a questo punto è necessario che non si capisce perché non possano arrestarci. Vedo che già c'è la mano alzata dell'assessora Laurelli. Prego, assessora, lei la parola. Pronto? Sì, ecco, un attimo. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio la Presidente De Vivo per questa illustrazione che, pur essendo l'argomento abbastanza complesso, è stato illustrato in modo sintetico e per me molto chiaro. Io penso che noi dovremmo ragionare, quando parliamo di tutela della salute delle persone fragili, ma in genere della tutela della salute di tutte le persone, dovremmo cercare di ragionare e la Giunta in questo senso fa un appello al Consiglio e quindi alla nostra Commissione delle Politiche Sociali in modo unitario, perché se succedono delle cose che danneggiano la qualità e la quantità di assistenza ai nostri utenti, noi abbiamo il dovere di tutelare i nostri assistiti, i nostri cittadini. Le tre questioni che sono state poste sono molto serie. Una l'abbiamo già trattata e approfondita in Commissione con la dottoressa Manzi, che ormai è l'unica neuropsichiatra infantile in servizio all'ASL. C'è un'altra dottoressa che sta ad interim a mezzo tempo con altri uffici e quindi sostanzialmente il carico di lavoro sta tutto in capo a un'unica neuropsichiatra infantile. Quindi la lista di attesa delle persone, dei bambini e delle persone che devono poter essere viste dalla neuropsichiatra infantile e che ovviamente prima le vede la neuropsichiatra, prima si decide il destino di queste persone, prima si interviene, prima si riesce a volte anche a risolvere casi che se si incancreniscono poi portano a disabilità effettive e vere. Parliamo di visite nelle quali si devono riconoscere i tratti che vanno dai disturbi dell'apprendimento fino all'autismo in fase grave. Quindi è comunque a patologie di tipo psichico piuttosto che fisico, anche importanti. La dottoressa Manzi ci ha raccontato che quello che già sappiamo ormai da due o tre anni a sta parte, cioè che i casi segnalati dalla ASL, dalle scuole, dalle stesse famiglie sono in aumento esponenziale di anno in anno. Adesso siamo a circa 800 ragazzi e bambini in assistenza l'aumento dei costi per esempio degli OEPAC noi l'abbiamo già misurato l'altro anno dove una quota parte dell'aumento del costo sta in capo al nuovo regolamento e quindi a un trattamento economico nuovo, diverso, più favorevole agli operatori, agli OEPAC da parte del Comune di Roma, ma c'è una componente di spesa aggiuntiva. Siamo passati a Roma da 60 milioni di euro complessivi a circa 90 milioni in un anno, da un anno all'altro. Questo 30% in più, più o meno, si divide equamente in due parti. Una parte sono i nuovi contratti degli OEPAC, le nuove funzioni e dall'altra sono aumento effettivo del numero dei bambini da assistere. Quelli delle scuole parlo ovviamente, che vanno a scuola ovviamente. Qua io credo che l'unica cosa che noi possiamo e dobbiamo fare è un atto di consiglio, che lo stanno facendo in tutta Roma, nel quale unitariamente si chiede alla Regione Lazio di provvedere con somma urgenza a bandire i concorsi per assumere neuropsichiatri infantili che mancano in tutte le ASL del Lazio. Quindi è un problema che ci accomuna a tutte le realtà, a tutti i comuni del Lazio. E quindi questa è una questione molto importante, molto seria, sulla quale noi possiamo solo fare un atto nel quale chiediamo, diciamo, il rafforzamento del personale. Se si ammala, facendo i dovuti scongiuri, la dottoressa Manzi, il servizio si ferma. Quindi siamo in grandissima difficoltà. E la dottoressa Manzi ci ha spiegato che, stante questa situazione, lei ha dovuto scegliere nell'ambito della lista d'attesa a chi dare priorità. E le priorità che ha scelto, e io sono, diciamo, non possiamo che essere d'accordo con lei, sono i bambini molto piccoli sui quali se si interviene tempestivamente inviandosi bambini presso centri con specialisti che possono far recuperare un deficit che potrebbe poi diventare una disabilità con più ripercussioni sulla salute psicofisica del bambino e i ragazzi adolescenti che tentano il suicidio. Quindi una roba che noi abbiamo visto fare, purtroppo, dai medici, dal personale dei nostri ospedali durante l'emergenza Covid, che è qualcosa che per gli operatori ma anche per le famiglie è assolutamente devastante dover decidere chi prima, chi dopo. Chiusa questa questione, la seconda è quella dei soggiorni estivi che organizza la ASL. L'altro anno è stato un macello nella ASL Roma 2. Siamo stati avvisati molto in ritardo, primavera ormai più che inoltrata, che c'erano difficoltà, le cooperative erano in subbuglio, sono state fatte moltissime riunioni fra regione e comune, perché qui è la regione che dà i soldi alla ASL per organizzare i soggiorni, il problema non sono i soldi, il problema è che la nostra ASL adotta un modello di organizzazione dei soggiorni estivi che è assolutamente diverso dal modello che usa per esempio la Roma 1 che ha mandato all'inizio dell'estate i suoi assistiti in vacanza e noi invece abbiamo visto i nostri assistiti della Roma 2, quindi mezza città, partire più tardi, con grande angoscia perché c'era anche uno scarico a barile fra chi fa cosa e alla fine con molto stress comunque i soggiorni sono stati fatti. Poi nel merito, quando la Presidente lo decide, ci facciamo spiegare, ma lo può confermare già la Presidente della Consulta della Disabita, come negli anni, magari prendiamo in esame gli ultimi dieci anni, la ASL ha man mano diminuito la quantità di servizio reso agli utenti perché sono stati sempre più tagliati i giorni dei soggiorni che quindi mettono in difficoltà e l'assistito e i parenti che avrebbero diritto pure qualche volta a un minimo di possibilità di stacco rispetto alla cura del figlio disabile che è qualcosa che nonostante i nostri servizi aggrava molto le spalle delle famiglie e dei genitori in particolare. Quest'anno abbiamo la fortuna che a inizio dell'anno, quindi un mese fa, le cooperative sociali hanno scritto a tutti i municipi dell'ASL Roma 2 denunciando il ripetersi della situazione dello scorso anno e chiedendo di essere pagate per il servizio reso l'anno scorso, adesso non so se devono avere un saldo nel merito non so dire e comunque hanno aperto un'avvertenza contro l'ASL Roma 2 dicendo, minacciando di non avviare, non partecipare all'organizzazione dei soggiorni estivi se rimane la gestione come la fa la Roma 2. Quindi ho partecipato ad una riunione che è stata convocata dalla presidente della commissione servizi sociali del comune nella converti che ha messo intorno al tavolo tutti gli interlocutori necessari compresa la ASL Roma 2 che si è impegnata alla fine della riunione ad incontrare il suo omologo responsabile dei soggiorni della Roma 1 e se il modello della Roma 1 lo convince la ASL Roma 2 ha promesso di cambiare le modalità di gestione e quindi di uniformare su tutta Roma il diritto ad avere soggiorni estivi che a questo punto sono lesi in qualche modo ridotti o messi in difficoltà in mezza città di Roma per responsabilità della ASL Roma 2. Fra dieci giorni dovremmo verificare se effettivamente la ASL cambia la modalità di gestione dei soggiorni che fra l'altro è una modalità che riguarda il pagamento delle cooperative quindi degli operativi operatori che poi vanno sul posto con i ragazzi gli operatori hanno detto a chiare note che se vengono trattati come se fossero un'agenzia di viaggi che va per turismo con i ragazzi disabili in giro per l'Italia loro proseguiranno nella loro presa di posizione aspettiamo questi dieci giorni e sapremo come è andata a finire l'ultima questione molto grave per me questo è il mio giudizio molto grave è la delibera del 28 di dicembre della giunta regionale dello scorso dicembre del 2023 con la quale letta approfonditamente e segnalata a noi dalla consulta della disabilità con assoluta tempestività è contestata da tutte le consulte di Roma compresa la consulta cittadina credo anche dalla consulta regionale e magari la presidente della nostra consulta ci saprà aggiornare perché io so che ci sono state manifestazioni e riunioni in questi giorni sostanzialmente si interrompe la continuità che la legge prescrive la continuità assistenziale si impone alle ASL del Lazio di trovare delle strutture alternative alle case famiglia dove ora sono assistiti persone anche adulte con spettro autistico medio medio grave di trovare delle strutture alternative io credo di poter dire solo per realizzare un risparmio della spesa se l'alternativa non viene trovata entro il 30 giugno diventano problemi cioè non c'è più l'assistenza per queste persone e dentro il 30 giugno io credo e lo dico con molta nettezza che si cercheranno strutture meno costose che saranno degli hospice dei cronicari in cui magari verranno messi non piccoli nuclei come succede oggi per esempio a Casa Gialla per parlare di una cosa vicina a noi che noi abbiamo visitato assieme ma verranno messe in strutture dove ci staranno tutti quasi 100 del Lazio che saranno colpiti da questa decisione da questa scelta so che in consiglio regionale e nelle commissioni già qualche gruppo politico ha protestato e chiede il ritiro della delibera o la sua modifica quindi decidete voi che cosa il consiglio municipale potrà fare per tutelare la nostra quota parte di assistiti possiamo anche chiedere tutti assieme facciamo una delegazione giunta e consiglio intendendo dire maggioranza e minoranza andiamo dall'assessore Maselli e soprattutto chiediamo un incontro urgentissimo con il presidente Rocca che come sapete ha le deleghe in materia di sanità quindi parliamo con tutti e due settori e vediamo che cosa realmente loro hanno in testa di fare come si stanno muovendo le ASL e vediamo anche di riuscire ad ottenere qualche risultato grazie Presidente chiedo scusa vorrei capire se devo andare avanti con la presentazione o meno ma io stavo parlando scusatemi stavo parlando io non sento no ma infatti avevo il microfono spesso e parlavo scusate no grazie Fulvio stavo ringraziando l'assessore che è riuscita in dieci minuti a fare tutto il compendio delle cose che abbiamo messo sul piatto volevo dire che anch'io credo che dobbiamo fare qualche cosa e io credo che effettivamente questa delibera vada ritirata e riscritta completamente per capire ma soprattutto penso che questa delibera come ho detto all'inizio e come il titolo di queste slide debba essere fatta insieme agli altri ho visto che c'è la mano alzata della presidente De Vitis che voleva gente venire a cui chiedo proprio un attimo un piccolo momento di sosta perché volevo aggiungere un'altra cosa sempre parlando del magari possiamo andare avanti un secondo con le slide correndo di più perché vedo che è necessario correre sono soltanto tre slide e così mi fa definire grazie Fulvio se può andare avanti alla slide numero nove sono solo tre e così concludiamo io volevo dire che per quanto riguarda anche il piano regionale che è stato fatto proprio recentemente dalla regione sempre criticità che hanno indicato nel piano regionale parliamo di salute mentale per TSMR è scritto lì dentro che partiamo dal concetto che un gruppo UMVD non è non è dimensionato in base a in base a una a dei regolamenti a un regolamento ma ovviamente sono dei gruppi che sono si riempiono e si svuotano a seconda ovviamente delle patologie che i vari gruppi che il gruppo UMVD deve gestire a mio parere ho visto che lo stesso piano regionale scritto proprio dalla regione attualmente si è accorto di questo fatto e praticamente ha inserito una scheda che è un'attività da realizzare dove effettivamente è necessario unire quello che è una quantità giusta di persone dentro l'UMVD per le patologie che devono fare con il fabbisogno sul territorio e io credo che questa è una direzione importantissima inserita nel piano ma credo che dobbiamo anche noi richiederla con forza perché ho visto che i tempi sono molto lunghi da vedere la scheda 912 parliamo del 2024 si saprà qualche cosa io credo che è necessario che la UMVD sia correttamente dimensionata a parte le cose che ha detto prima l'assessore cioè di persone che proprio mancano e per cui vanno almeno rinserite le persone mancanti un'altra l'ultima cosa che ho notato ogni anno questa ha sempre fatto la regione secondo me ha sempre sbagliato anche nel colore precedente negli interventi a sostenere le famiglie con spetto autristico inferiore a 12 anni di età c'è un piccolo contributo economico di solo 5.000 euro annuali però a persone alle famiglie che hanno 8.000 euro di sé io credo che questo contributo una persona che ha 8.000 euro di sé debba essere assolutamente aumentato questo valore perché questi soldi servono a queste famiglie per andare nei centri accreditati anzi anche nei centri non accreditati ma insomma per curare i loro figlioli io ho visto che non solo ci hanno detto alla nostra riunione il 20 luglio lo scorso anno ma si è andata a vedere anche sui rapporti di ADN Cronos salute mensilmente per una persona che privatamente vuole pagarsi queste terapie sono 2.000 euro al mese quindi effettivamente anche per famiglie che hanno un po' più di soldi e che magari hanno anche 10-20.000 euro annuali è una cifra troppo alta perché 2.000 euro al mese non se le possono permettere concludo inserendo ho inserito qui dentro i dati che ci diedero il riunione la Manzi che erano a luglio i ragazzi 5.543 e ovviamente considerando questa progressione che abbiamo visto anche nelle scuole che prima diceva l'assessore Laurelli siamo passati da 670 ora siamo a quasi 800 io immaginiamo che in carico al TMSRE oggi ci siano molte più persone di questi 5.543 e che quindi che aggiunta alla carenza di personale e aggiunta al fatto che le WMVD sono soltanto tre in queste tre fasce fa sì che non solo c'è un ritardo riconosciuto nella regione Lazio da sempre nel prendere in carico questi ragazzi ma c'è poi anche se andiamo all'ultima slide un problema rispetto ai centri accreditati ABBA perché i ragazzi che scoprimmo in quella riunione che i centri accreditati hanno delle lingue liste di attesa chiedemmo alla responsabile dell'invitato della riunione la possibilità di fare liste di attesa uniche ma anche con degli indicatori dei criteri particolari ci dissero che ci stavano lavorando ma secondo me un'attività di questo genere deve avere una priorità assoluta parlarono di questo sistema luna ma assolutamente noi crediamo che bisogna definire questi criteri costituire una lista unica di attesa in modo tale che sia più fluida e sia più i ragazzi siano più seguiti io ho finito con la presentazione quindi ringrazio il consigliere Bellassai se la può anche togliere ho fatto una grande corsa vedo che ci sono le mani alzate dell'assessore di Rosaria De Vitis e anche di Paola Vaccari prego Presidente grazie Presidente per l'invito per aver messo all'ordine del giorno e non solo oggi il problema della disabilità e delle criticità veramente forti che si stanno diciamo che dobbiamo affrontare in questi tempi quindi criticità che sono notevoli rispondo prima colgo l'invito della dell'assessora a proposito dei soggiorni perché magari molto velocemente appunto posso descrivere come sono andate le cose negli ultimi anni e nell'ultimo decennio quantomeno e diciamo che quando eravamo ancora a Hasler MC i soggiorni erano di soggiorni estivi erano di 15 giorni e quindi una durata abbastanza diciamo lunga anche per permettere appunto come diceva l'assessore sempre non solo la continuazione del progetto riabilitativo del progetto della persona ma anche per la famiglia per la il per poter perché la famiglia potesse insomma in qualche maniera avere un attimo di così di tregua di va bene quindi erano 15 giorni poi pian piano ci sono ridotti e siamo passati quando siamo diventati Roma 2 che ha unificato la Roma B e Roma C e siamo andati a 11 giorni con il pagamento di un piccolo ticket insomma non eccessivamente alto dall'anno scorso invece siamo passati a 6 giorni peraltro questa riduzione del tempo è avvenuto a soggiorni già iniziati per cui è successa questa cosa strana è che chi era già partito prima ha fatto un soggiorno più lungo e gli altri invece sono visti ridotti 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 quindi insomma anche questo abbastanza diciamo una cosa abbastanza non accettabile in effetti perché ha creato una certa disparità comunque questo è stato diciamo l'assottigliarsi sempre di più del periodo del periodo di durata dei soggiorni torniamo all'argomento torno adesso all'argomento principale diciamo all'ordine del giorno di oggi come ottimamente hanno ci hanno detto sia l'assessore che la presidente De Vivo per capire bene quello che sta avvenendo bisogna partire proprio dai TSRM perché proprio questa carenza strutturale dei TSRM che portano ai ritardi nella elaborazione della diagnosi quindi ad una presa in carico e quindi che determina poi la presa in carico diciamo ritardata determina una riduzione nello sviluppo comunque delle problematiche nello sviluppo delle abilità e dell'autonomia delle persone e questo poi può determinare problemi nell'età adulta tralascio il passaggio tra l'età evolutiva e l'età adulta quando c'è il momento in cui i ragazzi le persone diventano maggiorenni e quindi ci sono poi il passaggio dal TSRM alla presa in carico da parte dei disabili adulti anche quello è un altro problema che andrà affrontato perché non è che lì le cose vadano molto meglio a livello di organizzazione a livello di numero di operatori però insomma diciamo questo passaggio è anche questo abbastanza problematico ora la regione ha preso in carico così come abbiamo visto appunto attraverso le varie slide per quanto riguarda l'età adolescenziale ha già da tempo ha guardato ai disturbi dello spettro autistico con la con la cercando di di aiutare di venire incontro in qualche maniera alle alle esigenze di delle persone e quindi ha determinato è in sostegno delle famiglie per cui noi sappiamo che appunto come diceva la Presidente di Vivo ci sono adesso oggi è possibile accedere a dei rimborsi per delle spese si tratta di 5.000 euro rispetto alle grandi spese che le famiglie fanno come è stato rilevato proprio perché non ha potendo essere presi in carico da parte del presi in carico nel senso abilitativo da parte del TSRM poi ricorrono appunto ai privati con le spese enormi e è proprio di ieri la notizia che è stato approvato dal Consiglio regionale del Lazio un ordine del giorno che chiede che che chiede l'estensione del contributo spese dai 12 anni ai 17 anni e questa è una bellissima notizia ecco che mi sento ridare proprio in anteprima perché anche le famiglie con bambini dai ragazzi dai 12 ai 16 anni potranno chiedere questo contributo minimo ma comunque almeno questo c'è passando poi alla delibera del del 28 dicembre alla 983 dunque chiaramente ne abbiamo già parlato ampiamente nell'altra nell'altra commissione quindi c'è stato un grande sommovimento da parte delle famiglie da parte delle consulte rispetto allo quello che l'obiettivo che si propone la questa delibera e ci sono stati quindi come appunto veniva detto prima delle manifestazioni manifestazioni da parte delle famiglie dei centri che delle associazioni che che delle case famiglie insomma attualmente in servizio alla regione Lazio e poi è iniziata tutta una serie di incontri da parte dell'assessore Maselli e la dottoressa Guglielmino della direzione inclusione sociale che hanno visto prima un incontro con le consulte lunedì scorso ed è stato un incontro diciamo all'inizio abbastanza come dire che ha avuto dei toni abbastanza accesi proprio perché noi abbiamo espresso la nostra indignazione riportavamo l'indignazione delle famiglie ovviamente rispetto ad una delibera che intanto contrasta con quelle che sono state quelle che sono le linee guida del distruttore superiore della sanità per quanto riguarda i disturbi dello spettro autistico in cui la parte sanitaria viene messa viene indicata come meno rilevante e come invece viene sottolineato la necessità dello sviluppo delle autonomie la necessità della massima apertura all'esterno quindi un discorso di tipo assolutamente sociale e questa delibera invece ci dava delle percentuali veramente altissime parlava addirittura su 87 di 54 persone con un peso sanitario appunto del 70% e il 30 del comune e di 33 persone con il 40 per cento sanitario e 60 sociali che significa praticamente la 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 sanitarizzazione di un di un problema che appunto non è una malattia ma è una condizione e quindi ecco ecco quindi la necessità di rivedere giustamente come diceva la presidente di rivedere questa delibera alla luce proprio dei dettati scientifici di quello che viene che si si afferma da parte di tutti di tutte le istituzioni diciamo che si occupano di questo problema per cui quindi dicevo all'inizio i toni sono stati abbastanza forti accesi poi ovviamente come sempre avviene ci si è ci si è un pochino così tranquillizzati e si è messo a discutere ma soprattutto si è detto che questa delibera nasce non nasce da quella necessaria non dico concertazione ma almeno consultazione dell'utenza e ci è stata calata così sulle nostre teste in un periodo peraltro peraltro strano il 28 dicembre quindi abbiamo chiesto di rivedere questa cosa proprio alla luce di quello che dicevo prima si tratta di persone che non vanno sanitarizzate che non hanno assolutamente problemi sanitari che non hanno bisogno del medico a tempo pieno oppure dell'infermiere diciamo 24 ore su 24 ma che hanno bisogno invece di entrare nel mondo di svolgere attività sportiva attività socializzante e quindi di aprirsi appunto al mondo e non di chiudersi in strutture che l'assessore definiva cronicari ma sì in realtà sì quindi la riunione è finita con diciamo l'assicurazione che verranno riguardati i piani singoli di ognuno con riferimento attento a quella che è la vera situazione di ognuno per cui insomma chiaramente bisognerà tener d'occhio tener d'occhio la situazione proprio perché non si arrivi un'altra volta a decisioni a decisioni che ci colgono in qualche maniera impreparati sulle quali non siamo stati assolutamente consultati per cui io per chiudere direi e sono sicuramente d'accordo anzitutto con la presentazione di un atto da parte del consiglio anzitutto sul TSRME sicuramente è fondamentale perché è da lì che si parte poi ma anche nel rispetto a questa delibera che insomma va in qualche maniera rivista o comunque insomma non sono accettabili le posizioni da cui parte e le conclusioni a cui arriva io mi fermerei qui non voglio togliere molto tempo magari poi prova ad intervenire dopo se sarà il caso ringrazio comunque tutti per l'attenzione grazie presidente Paola Vaccari prego c'è la mano alzata prego eccomi non riuscivo a smutarla scusami allora gli argomenti trattati sono sicuramente interessanti molto di più e le criticità soprattutto sono quelle che sono emerse sia dall'intervento dell'assessora Laurelli ma soprattutto dall'intervento di Rosaria De Liris la presidente della consulta e sappiamo che la regione sta facendo dettagli indicibili indescrivibili e che comunque vanno a a a distruggere ciò che in tanti anni è stato fatto da parte delle altre amministrazioni ma soprattutto in un momento di crisi così profonda mette in seria difficoltà le famiglie che purtroppo sono colpite da problematiche di salute dei propri cari quindi il fatto che diceva la presidente De Vivo scusatemi sul pagamento di 5.000 euro come contributo in una famiglia che ne ha come reddito 8.000 cioè significa che questa famiglia deve fare una scelta di vita o mangia o aiuta il proprio caro ed è impensabile sicuramente quello che ci dice sempre la la e ormai è diventato un mantra la mancanza di personale sta diventando sempre più un un grande spettro quindi secondo me provare a a fare un atto di consiglio magari proprio intanto unitario come firma di questa commissione per chiedere alla regione di indire urgentemente concorsi perché non possiamo aspettare ulteriormente credo che sia necessario e poi per quanto riguarda anche il discorso dei soggiorni estivi così che mi ci ha spiegato sia la signora De Vitis la presidente De Vitis che l'assessora Laurelli credo che un incontro con l'assessore ai servizi sociali della regione potrebbe essere un primo inizio per riuscire a cercare di arrivare alla determinazione e far capire anche loro visto e considerato che noi siamo i diretti intercettatori dei bisogni dei cittadini visto che siamo dei consiglieri municipali magari evidenziando questo potremmo potremmo dico riuscire ad avere qualcosa in più mi sembra che altro non devo dire però credo che sia necessario quindi presidente un atto di commissione dove chiediamo l'assunzione per quanto è possibile di nuove neuropsichiatri ma proprio di nuovo personale per le ASL di tutta Roma ma di tutto il Lazio grazie una domanda però per i scienzi estivi aspettiamo perché se ci sono dieci giorni se effettivamente l'ASL Roma 2 si adegua all'ASL Roma 1 probabilmente si adeguerà non solo nel pagamento ma spero si adeguerà anche nelle ore erogate perché erogare sei giorni soltanto su quindici oppure possiamo effettivamente ragionare su quello e capire in che direzione sta andando l'ASL Roma 2 per quanto riguarda il numero di giorni da destinare ai ragazzi questo dobbiamo ancora capirlo insomma ci dobbiamo ragionare un attimo insieme no ma su quello magari possiamo anche aspettare Presidente ma sull'atto magari per l'assunzione potremmo partire già subito insomma non credo che ci siano ulteriori novità su questo tema a meno che non vogliamo mettere i dati precisi quindi scrivo alla Rogora chiedo un aggiornamento di quei 5.543 e la scrivo subito fra oggi e domani e cerchiamo di avere questi dati per cercare ma possono essere solo peggiorati non migliora ma io credo che è un atto molto semplice in cui noi chiediamo alla regione nuove assunzioni quindi alla fine loro sanno perfettamente quali sono i dati ma non è non è tanto il fatto dei dati che urgono urge proprio un aiuto a queste famiglie soprattutto come diceva lei prima sia lei che l'assessora quando dice che bisogna scegliere tra chi mandare avanti e chi lasciare indietro come malati che è una roba è una roba assurda e io mi metto da genitore nelle nelle vesti di questi genitori che uno si deve augurare di avere un figlio gravemente un parente gravemente ammalato per poter comunque accedere a certi servizi mi sembra una roba assurda va bene grazie presidente prego Borrelli prego Danilo Borrelli sì grazie presidente ma io sul piano della discussione generale ho poco da aggiungere nel senso che è stato detto tutto e bene dalla consulta dall'assessore e anche dagli interventi tuo presidente della consigliera Vaccari quindi diciamo è solo ribadire quanto ci siamo detti anche nelle commissioni precedenti nell'ultima con l'audizione della consulta e nella precedente in cui abbiamo audito proprio chi eroga il servizio al TSMR cioè scegliere il posizionamento dell'istituzione cioè l'istituzione è dalla parte dei cittadini e delle cittadine in particolare di chi ha bisogno e di chi ha più bisogno soprattutto dopo anni di emergenza sanitaria legata al covid che come diranno ulteriormente nei fatti ha gravato tutta una serie di interventi tutta una serie di servizi spesso comprensibilmente anche sia chiaro facendo sì che costringendo come dire le famiglie e persone a star chiuse dentro casa quindi andata ad acuire quella dinamica di restrizione dei legami sociali che male ha fatto e che male farebbe se fosse l'elemento cardine cioè qui io non so se c'è io non l'ho ancora capito non mi sono fatto un'opinione diffusa se c'è una diversa interpretazione di quello che è degli disturbi che vengono definiti come patologie che quindi vanno internalizzati che quindi vanno curati come fossero altri tipi fossero patologie o altri tipi di patologie io non so qual è la logica non l'ho ancora capito se è una logica di mero taglio se è una logica di tra virgolette semplificazione che poi però complica se è una logica altra onestamente andrebbe chiesta ai diretti interessati che è la regione quindi non 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 metto in bocca parole altrui certo è che un disagio c'è dettato dagli effetti di questa delibera e se siamo d'accordo e penso che siamo tutti d'accordo su questo come dire un atto di indirizzo o le necessarie interlocuzioni che ribadiscano uno di lavorare anche alla luce delle audizioni fatte con la consulta e con le famiglie a una revisione del provvedimento che lo riporti in cardini diciamo così accettabili due sulla questione del tsmr un intervento importante per quanto riguarda non solo le assunzioni ma qui c'è un problema ulteriore che ci diceva un'altra volta cioè che non c'è il turnover quindi non è che si chiedono assunzioni di personale perché il personale è insufficiente e è così ma banalmente assunzioni di personale a sostituzione di chi va in pensione cioè quindi come si direbbe a saldo zero cioè un ripristino di un personale che già era insufficiente è un problema cronico è un problema cronico ma è un problema che evidentemente purtroppo ha visto una situazione che si è acuita e quindi in virtù di questa un nostro intervento che appunto ribadisca il punto di vista dell'amministrazione municipale e quindi la vicinanza alle famiglie e al territorio cioè quello che è proprio il ruolo di quello che dovrebbe essere un'amministrazione locale un'amministrazione municipale e tutte le azioni interlocuzioni discussioni e quello che sia finalizzate a risolvere il problema anche tinando qualora necessario non lo so la butto lì organi superiori cioè se la regione chiedesse maggior risorse al governo su questo ben venga dico al governo perché è l'ente superiore non per altre ragioni di altro tipo lo direi qualsiasi amministrazione fosse in carico e quindi lo dico anche per questa quindi d'accordissimo anche a discuterne in commissione ma accompagnando questa volta la discussione a diciamo uno strumento operativo cioè quindi a un atto perché altrimenti rischiamo di fare una bella discussione tra di noi in cui sostanzialmente mi sembra siamo tutti d'accordo nell'analisi e nella individuazione di problemi però poi accanto a nominare i problemi proviamo a costruire un pezzettino di strada di risoluzione degli stessi sapendo che purtroppo in questo caso l'amministrazione municipale può poco sul piano della risoluzione del problema però deve forse anzi deve secondo me sì come dire rimarcare l'urgenza dello stesso e chiedere un coinvolgimento degli organi proposti per provare ad avere pezzi di risposta pezzi di soluzione e alleviare delle difficoltà delle famiglie che mi sembra che già ce l'hanno quindi penso di aver risposto anche sul piano operativo rispetto a un'ipotesi che per il momento mi sembra sia uscita di percorso anche di commissione grazie presidente grazie consigliere Borrelli c'è la mano alzata di non lo so io non cerisola e poi bellassai ok prima cerisola poi bellassai confermo confermo prego e poi anch'io ho chiesto la parola ho alzato la mano non si vede la mano di Rosetta ok va bene cerisola prego grazie presidente e grazie alla vicepresidente Vicaria e alla consigliere Borrelli che hanno gentilmente coadiuvato nell'indicare insomma che le mani alzate era anche la priorità di prenotazione dubbiamente questo questo problema è estremamente delicato insomma stiamo questa è la nostra commissione più delle altre segue la sostenenza delle persone di un largo una larga fetta della popolazione che purtroppo ha grossi problemi insomma non solo sto parlando delle persone che hanno difficoltà ma ovviamente anche delle famiglie delle persone attorno che si fanno carico più di tutti di questa di questa situazione faticosa insomma dolorosa e faticosa anche se questa questa fetta della popolazione fosse ridotta fosse esiguata numericamente però insomma ovviamente non possiamo esimerci da non potremmo comunque esimerci da farcene ugualmente carico nell'affrontare questa 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 criticità e la il recente provvedimento insomma di ieri della regione Lazio che ha alzato la fascia di età delle persone che possono essere prese in carico insomma dalle istituzioni è comunque insufficiente al di là della insomma di quanto viene fatto per queste persone insomma che non probabilmente non è comunque abbastanza rispetto alle esigenze delle famiglie ricordiamoci che non è che superato una certa età loro hanno esteso la fascia di età ma arrivati comunque a un certo limite un po' più alto ma comunque c'è un limite oltre il quale non è che il problema si risolve non è che le persone superate a una certa età trovano lavoro diventano autonome il problema è risolto non è così insomma sappiamo la difficoltà la difficoltà di trovare lavoro già per chi è per chi gareggia alla pari rispetto alle altre persone a maggior ragione chi invece parte da una situazione di svantaggio insomma nel mondo del lavoro indubbiamente ha ancora più difficoltà insomma collocarsi e quindi il problema rimane sulle spalle famiglie poi lo sappiamo insomma i genitori col tempo diventano anziani insomma la situazione diventa pesante insomma diventa anche difficile quindi insomma è da chiedersi se sia giusto mettere un limite di età all'impegno delle istituzioni poi l'altro discorso certo l'aumento dell'organico cioè avere più personale addestrato qualificato per seguire le situazioni è indubbiamente un'esigenza molto sentita molto importante ora vanno dette due cose la prima è che ci sono delle regole che dicono appunto che ad esempio i comuni non possono assumere ma insomma vanno anche altri entri locali non possono assumere quando hanno un bilancio in sofferenza insomma quindi prima mettono a posto i conti e poi devono possono procedere ad assunzioni e quindi va fatta assolutamente attenzione alle altre spese che vengono fatte insomma non vanno messe in competizione le situazioni di sofferenza tra di loro ma va guardato altrove dove dove insomma ci vuole attenzione all'assesa ci vuole ci vuole più insomma più 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 cura ecco ad esempio insomma è vero che gli appalti hanno tempi più lunghi ma essendo trasparenti mettendo in concorrenza le imprese tra di loro hanno un costo indubbiamente molto più basso degli assidamenti diretti insomma quindi questo è una cosa sicuramente su cui intervenire e poi ce ne sono altri insomma io l'ho detto più volte soprattutto quando parliamo di bilancio che dobbiamo ragionare in termini di priorità insomma la priorità deve essere una un criterio fondamentale sul quale ragionare l'altra cosa è che se c'è attenzione dal lato delle uscite ha maggior ragione deve essere attenzione sul lato delle entrate ossia sappiamo che l'evasione fiscale ha delle dimensioni impressionanti ciclotiche non non sono fonti di informazione in questo questo campo non 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 cito fonti di dubbia insomma assidamento ma mi riferisco a statistiche ufficiali c'è già le statistiche ufficiali degli enti preposti insomma danno numeri numeri da paura insomma in questo stesso campo è chiaro che sono tutti i soldi sottratti alla collettività soldi sottratti alle spese necessarie le spese indispensabili soprattutto queste soprattutto queste e quindi è paradossalmente una redistribuzione iniqua del reddito sappiamo che uno degli scopi delle istituzioni pubbliche è la redistribuzione del reddito questa questa sorta di redistribuzione vada verso una persona che non che non concorrono alla spesa pubblica è ovviamente una cosa inaccettabile insomma cosa che va messo un freno il prima possibile in maniera incisiva perché insomma ce lo chiede l'articolo 53 della costituzione ad esempio ma anche l'articolo 2 e 3 insomma non voglio fare un erenco di riferimenti normativi e poi insomma d'accordo esprimerci come atto anche se insomma come è stato detto il municipio non ha grandi poteri però insomma dare un segnale è indubbiamente una buona una cosa insomma doverosa anche se ripeto abbiamo grossi grossi grosse competenze grosse possibilità di incidere ma insomma veramente è un segnale e aggiungerei che giustamente i cittadini chiedono atti a noi le istituzioni perché le istituzioni si esprimono con atti insomma però insomma il primo atto importante come dice sempre la costituzione è quello che i cittadini fanno in cabina elettorale con la matita insomma quello quello è fondamentale insomma uno deve avere una visione ad ampio raggio perché appunto le scelte poi come vediamo poi hanno conseguenze anche anche molto pesanti grazie presidente grazie consigliere Bellassai consigliere Cerisola quindi insomma anche lei è d'accordo col fare un atto raccolgo tutte le suggestioni di questa riunione vediamo un attimo c'è da deve parlare ancora Fulvio Bellassai poi c'è Rosaria De Vitis la presidente alle ore non so se volete scambiare un attimo alle ore e Rosaria per il momento Fulvio prego no grazie presidente io sarò brevissimo perché tutto è già stato detto mi sembra che ci sia piena condivisione sul tema della criticità di questa situazione della generalizzata incapacità o impossibilità delle istituzioni a tutti i livelli di fornire alle famiglie specialmente alle famiglie che vivono queste situazioni quindi alle famiglie che hanno disabili alle famiglie che hanno figli nello spettro dell'autismo i supporti che sarebbero necessari io sono d'accordo con il formalizzare un atto purtroppo come spesso succede prendo atto prendiamo tutti atto che i nostri sono spesso atti di indirizzo ma non di indirizzo e di espressione di una posizione che purtroppo non riesce e non può in relazione al nostro ruolo istituzionale ai poteri che ci sono concretamente affidati non possono avere un effetto pratico io esorto però la commissione come cerco di fare sempre sia in commissione che in consiglio a non a focalizzarsi sulle problematiche effettive alla problematica effettiva per la sua risoluzione a non diciamo far intravedere alcun tipo di conflitto istituzionale o di richiesta istituzionale ad un ente in questo caso superiore come se questo ente avesse assunto delle decisioni per mera posizione politica voglio dire che tutti coloro che in politica si trovano ad amministrare ad un certo livello regolarmente si scontrano con questo tipo di carenze sia budgettarie che di personale eccetera eccetera è un po' troppo facile dare la colpa attribuire le responsabilità ad un ente superiore specialmente quando questo ente è amministrato da qualcun altro in termini di colore politico ecco questo è un atteggiamento che mi sento di stigmatizzare che non andrebbe mai assunto resta il fatto che comunque in questo caso un'amministrazione regionale si prende la briga di di emettere delle linee guida di stabilire dei vincoli economici per esempio anche quello è un problema paradossale che si riscontra molto spesso anche nelle iniziative del governo ma non di questo governo di tutti i governi cioè quello di fare degli annunci su iniziative di natura sociale che a parole si prefiggono obiettivi altisonanti e di altissima valenza sociale quando poi però si va a guardare qual è il limite a chi sei per il quale questi provvedimenti si rivolgono ci si rende naturalmente conto che poi l'impatto reale sarà scadente scarsissimo perché con un'isee di 8 mila euro o simili che spesso vengono richiamati nelle norme approvate sia in Parlamento che in quelle approvate dal governo cioè nelle iniziative prese dal governo legislative ecco ci si rende conto che poi l'impatto è veramente molto ma molto minimo molto molto ridotto rispetto ai toni altisonanti con i quali viene annunciato questo è quello che volevo dire quindi sono disposto a collaborare con la commissione affinché alla stesura di un documento perché questo documento non abbia la natura di uno scaricamento di responsabilità politiche che non hanno senso nello specifico perché come diceva dicevano in parecchi consiglieri e commissari prima di me noi dobbiamo puntare alla risoluzione dei problemi per il bene della collettività e delle famiglie che hanno queste problematiche e non per farne una battaglia politica grazie grazie bella sai c'è Rosario De Vitis e poi Gino Leori per me possiamo invertire non c'è problema posso anche dare Gino insomma se vogliamo finire ci pare io volevo semplicemente dire a Caterina che all'appello precedente siccome mi è arrivata una telefonata non ho potuto rispondere poi ho avuto problemi per smutarmi però io sono stato sempre presente in commissione e volevo dire a Caterina questa cosa insomma è avverbale insomma va bene va bene adesso lo appunto benissimo grazie allora facciamo concluso Gino quindi facciamo parlare della presidente De Vitis prego grazie scusate l'interruzione per questa cosa è importante che lo dicessi in registrazione insomma prego grazie presidente no molto rapidamente volevo dire comunque comunicare alla commissione che il il 12 di gennaio noi le quattro consulte diciamo attive dell'attiva nel senso che c'è una che è stata istituita da poco quindi dell'afferente all'ASL Roma 2 abbiamo presentato una richiesta di incontro proprio sugli argomenti che abbiamo trattato oggi in particolare i servizi la scarsità del il sottodimensionamento dei servizi sanitari in particolare del TSRME e chiedendo un incontro urgente al quale non abbiamo avuto ancora risposta però una una appunto una richiesta di 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 incontro su questi temi indirizzata sia all'assessore Maselli che ovviamente al presidente della regione Lazio al direttore Casati dell'ASL Roma 2 dottoressa Rogore eccetera eccetera poi scendendo giù quindi comunque abbiamo eh fatto questa richiesta e siamo in attesa di una risposta eh di una convocazione proprio per poter eh affrontare proprio con 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 la la politica e con l'amministrazione con l'ASL insomma eh questi problemi che abbiamo affrontato oggi grazie era solo questo che volevo comunicare ha fatto bene quindi praticamente possiamo dire le consulte del distritto 9 sono queste no? le quattro consulte le quattro consulte del distritto 9 in pratica del municipio 6 7 8 e 9 perché del del quinto è stata è stata praticamente attiva da pochissimo e quindi nonno in quella data nonno eh in cui abbiamo mandato questa richiesta ah la quinta ehm non c'è ancora non c'è è stata è sorta in questi molto recentemente in questi giorni passati insomma allora sì se non ce ne sono altri interventi io volevo rispondere un pochino anche all'intervento del consigliere Bellassai noi quando ho detto degli 6 8 mila euro effettivamente ho specificato che era un provvedimento da sempre errato e adesso se si parla di tsmre effettivamente possiamo assolutamente includere questa cosa mentre al consigliere Cerisola al discorso da io credo poi magari qua possiamo ancora capire essendo un provvedimento il tsmre quindi da 0 a 17 anni penso che la regione abbia giustamente e questo qua applaudo a questa ordine del giorno ha aumentato da da 12 anni a 17 anni questo limite per poter avere questi 6 oltre non si può andare a meno che poi non non c'entra più il tsmre ma sono io non so se per le persone adulte che tipo di terapie ci sono sinceramente per me sono molto ignorante su questa cosa e quindi non credo che quel limite 17 sia stato un bel segnale da parte della regione Lazio di ampliamento quello che non è un bel segnale rimane il discorso degli 8000 degli 8000 euro di base dell'ISEE che non è sostenibile vedo che c'è la mano alzata di Pietro Basile un secondo soltanto volevo dire che noi qui stiamo parlando di fatti di situazioni è indubbio che la delibera 983 è una delibera con tutte quelle criticità che ho messo nero su bianco anche all'interno del documento che vi ho girato c'è effettivamente una delibera che non che non non dà continuità assistenziale ma dà discontinuità e quindi a mio parere è proprio scritta male e va assolutamente e che nasconde sicuramente tutti questi problemi che abbiamo evidenziato all'interno della riunione e nasconde il concetto di che che un'eccessiva sanitarizzazione della che è contrario alle linee guida dell'istituto superiore di sanità linee guida scritta recentissimamente nel 2023 non l'ho segnato nelle slide ma andatevele a vedere cioè questo tipo di può essere assimilato come a problemi sanitari da una in quanto aiuti e supporti ma non assimilato al discorso sanitario in quanto cure perché e quindi qui c'è effettivamente una zona grigia che va che la ricerca scientifica e questo comitato trasversale che è stato messo giustamente a mio parere all'interno di questa delibera della 983 c'è questo comitato trasversale che deve che avrebbe già dovuto analizzare queste 87 piani che dovrebbe a mio parere avvalersi di queste disposizioni nuove di questa della nuova linea guida e quindi io non è un discorso ideologico perché insomma di di situazioni di tagli che ha fatto la regione che ha fatto anche il governo alla risabilità le sono sotto gli occhi di tutti ma non sono non sono probabilmente dipendono da quelli da quei tagli che scendono poi a cascata su tutte le regioni e che le regioni hanno meno risorse e quindi le regiscono in questo modo però io sinceramente credo pure che spostare queste persone non si sa dove e quindi qua c'è un po' di di nebulosità probabilmente possa costare addirittura di più a meno che i costi non vengono riversati sulle famiglie e quindi ci sono troppe zone d'ombra e quindi io credo che quella delibere in particolare vada rivista ritirata così com'è è soltanto non basta secondo me che le persone si incontrino e che si rivedano tutti i piani ma è necessario proprio riemetterla perché è talmente poco chiara vedo che c'è la mano alzata il vicepresidente della consulta della disabilità prego signor Vasile sì grazie presidente allora io intervengo semplicemente per per chiarire un po' con l'aspetto che aveva precedentemente illustrato del passaggio alla maggiore età allora in realtà questo è vero alla maggiore età si passa dalla competenza del PSMR a quella dell'unità disabili adulti e c'è storicamente una sorta di scollatura perché in quel passaggio diminuiscono drasticamente gli interventi di tipo sanitario addirittura si azzerano in moltissimi casi e quindi c'è una discontinuità una mancanza di continuità che storicamente questa viene segnalata un po' su tutto il territorio nazionale ed è un tema su cui ci sarebbe da riflettere proprio a livello alto diciamo però tutto questo a ben vedere potrebbe anche avere una razio certo dovrebbe essere graduato in maniera più efficace non drastico così fino a ieri eri assistito dal punto di vista sanitario e da oggi che diventi maggiorenne non più però dovrebbe essere un passaggio che conduce dalla sanitarizzazione che può avere un senso perché nell'età più giovane degli interventi riabilitativi sono indispensabili mentre si presuppone che col crescere diventano più importanti diventa più importante l'intervento di tipo sociale dell'inclusione dell'inclusione dello sviluppo delle autonomie dell'inclusione lavorativa e così via quindi c'è questo scollamento però la delibera della regione diventa contraddittoria perché se da una parte c'è questa impostazione alla maggiorità i ragazzi con autismo diventano diciamo dei soggetti da trattare dal punto di vista socioassistenziale però questa delibera li va a sanitarizzare nuovamente cioè delle due l'una mettetevi d'accordo noi come famiglie siamo assolutamente concordi sul passaggio socioassistenziale perché i nostri ragazzi non sono malati per cui hanno necessità che vengono assistiti da questo punto di vista sviluppandone le competenze l'inclusione e così via comunque c'è un gap ad oggi storicamente noto al passaggio alla maggiorità che dovrebbe essere armonizzato in maniera più efficace questo solo per chiarire questo aspetto che mi sembrava che stesse emergendo come 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 domanda come punto di domanda e la ringrazio per per avermi dato la possibilità di esprimerlo patrizia se stai parlando lo stai facendo col microfono spento grazie grazie stavo parlando mannaggia grazie questo passaggio è indicato anche nei piani regionali che è un passaggio delicato e non correttamente anche nel piano ultimo quindi effettivamente è un è una criticità e quindi volendo potremo in un futuro pensare ad una riunione fra il TSM e il CSM cercando un attimo di capire che cosa quali sono i problemi delle famiglie in che modo si può nonostante le regole nonostante la normativa in che modo si può attenuare questo passaggio e ci disse la dottoressa Manzi che effettivamente più si va avanti e meno il discorso sanitario è importante più importante come lei ha confermato signor Basile il discorso della socialità quindi è probabile che possano servire più centri per questi ragazzi che io a me piacerebbero sempre dei centri integrati non dei centri in cui ci stanno da soli e quindi secondo me questo è un altro salto avanti che dobbiamo fare non essendo l'autismo una patologia ma penso che dovremmo cominciare a vedere questi ragazzi come ragazzi che nel passaggio dai 18 anni all'età adulta come persone che possono assolutamente entrare nel mondo del lavoro nel mondo insomma essere integrati a questo proposito proprio perché vorrei fare bipartisan e quindi vorrei dire a consigliere Bellassai che ho visto con piacere sempre alcune direttive date dal piano regionale io ho visto soltanto questi documenti in cui ci sono anche dei progetti proprio per l'inserimento di scusatemi per l'inserimento di questi ragazzi da per l'inserimento di questi ragazzi nel mondo del lavoro effettivamente poi andando a controllare anche su internet questo il discorso del ampliamento da 0 a 17 anni ho visto che era stato annunciato da una consigliera della regione ed è un comunicato che ha fatto la Leonora Mattia proprio in questo istante quindi ieri sera è passato questo DG che diceva la Rosalia De Vitis e questo è uno DG presentato dalla consigliera Leonora Mattia del PD io devo dire che questo fa onore a tutto il consiglio regionale che su un ordine del giorno ma fa onore che ha accettato questo spostamento dai 0 ai 18 anni ecco proprio in questo istante mi è arrivato il comunicato perché sono iscritta al whatsapp della di Leonora Mattia quindi vabbè torniamo di nuovo di noi io a questo punto se non ci sono altri interventi se qualcuno di voi mi vuole aiutare a scrivere questo documento non so se riusciamo già a discutere la prossima settimana che abbiamo già programmato una riunione per il PEBA se riusciamo almeno a impostarlo e a farci un'altra un'altra possiamo io posso provare a farlo in questa settimana buttando giù qualche cosa ovviamente nulla che sarebbe votabile fra una settimana non dobbiamo assolutamente riverificarlo tutti insieme in questa commissione come normalmente facciamo è vero che anche questo è un provvedimento di urgenza però non posso nemmeno fare delle cose sempre urgenti prego Fulvio vedo che c'è la mano alzata sì no presidente in realtà volevo chiudere il punto forse è il caso di chiudere il punto prima però rispetto a quello che diceva la prossima settimana Certiano Pebba volevo capire se la programmazione che lei che abbiamo discusso in commissione è stata in qualche modo formalizzata e diffusa cosa non ho capito la domanda la programmazione delle attività e le prossime sedute no avevamo detto che sarebbe avremmo fatto un po' ve l'ho mandata io ve l'ho mandata me la sono terza ecco appunto è questo che probabilmente essendo in giro me la sono sì vi ho mandata come appena finita la riunione scrissi più o meno i mesi no di fare il piano zona effettivamente l'hanno deciso di farlo a febbraio verifico verifico allora chiedo scusa vabbè insomma stiamo parlando qui di mesi insomma più o meno questi sono sono tantissimi temi su cui possiamo lavorare insomma su tutte cose che devono essere ovviamente preparate e capiti anche gli interlocutori giusti per andare avanti questa cosa mi sembrava urgente questo era il piano pebba a mio parere perché ormai siamo anche se non so se sono arrivati se c'è la certezza del bilancio ecco quindi questa è la cosa che non so però insomma chiederemo all'angelucci e al direttore Sica va bene se non ci sono altri argomenti all'ordine del giorno sono le 11 e 22 direi che possiamo ringraziamo Rosaria De Vitis Pietro Basile Luisa Laurelli e tutti quelli che hanno che ci hanno aiutato a capire che cosa fare effettivamente nel devo dire che fu uno shock l'intervento di Rosaria De Vitis due settimane fa per noi è stato un po' uno shock quindi queste settimane fra attività che sono state fatte giustamente da tutte le consulte e attività fatte anche su altri tavoli per cercare di di alleviare di trovare delle soluzioni delle sinergie quindi io ecco quindi con questo piano con questo quadro normativo e con un approfondimento fatto oggi in commissione penso che abbiamo abbastanza elementi per poter scrivere un atto senza aspettare i dati ufficiali dalla roggora come diceva prima anche la consigliera Cari perché sappiamo io l'unica solo un'ultima cosa perché non mi faccio mai i fatti miei sono andata a vedere che i concorsi ci sono gli ultimi concorsi fatti per l'assunzione del personale nel tsmre dell'asle roma 2 sono anche recenti 2000 ce l'ho scritto da qualche parte e comunque ci sono delle liste si potrebbero come dire far scorrere queste liste però ho visto che ci sono pubblicate sull'asle tutte le liste sono anche abbastanza complesse perché sono persone già laureate persone che invece stanno facendo la specializzazione in neuropsichiatria infantile e non so se possono essere prese da tutte queste liste queste persone però dovrà decidere l'asle ovviamente se fare un nuovo concorso se fa scorrere le liste o se trovare all'interno del personale che ci hanno degli spostamenti insomma in modo da rimpolpare il gruppo tsmre che effettivamente è in ambascia sono le 11.25 direi che possiamo chiudere la riunione se siete tutti quanti d'accordo quindi ho provato il piano presidente grazie la programmazione sì quindi possiamo chiudere la riunione alle 11.25 Caterina va bene chiudiamo alle 11.25 allora arrivederci a tutti buona giornata grazie buona giornata arrivederci grazie buona giornata a tutti arrivederci arrivederci